E' stata rinviata il 20 gennaio 2015 l'udienza preliminare del cosiddetto processo Bussi-Bis stralcio del procedimento principale che si avvia a sentenza in corte d'assisi a Chieti e che riguarda l'inquinamento delle acque dovuto alla mega discarica dei rifiuti tossici che insiste sul territorio di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Il rinvio deciso dal GUP Maria Carla Sacco è un differimento tecnico per consentire la conclusione del processo in assisi che dovrebbe concludersi prima di Natale. Nella prossima udienza di gennaio ci sarà la costituzione delle parti civili e la trattazione delle questioni preliminari oltre alla definizione del calendario delle udienze del procedimento che coinvolge 5 persone per lo più ex vertici di H e Ato quali Giorgio D'Ambrosio all'epoca presidente dell'Ato, Bruno Catena ex presidente di H, Bartolomeo Di Giovanni direttore generale H Lorenzo Livello direttore tecnico H e Roberto Rongione responsabile del servizio Sian dell'Alsl di Pescara. Il reato loro contestato dalla procura di Pescara è distribuzione di acque contaminate. Il processo Bussi Bis sta prendendo le mosse a distanza di otto anni dall'apertura del fascicolo iniziale dato che la discarica venne rinvenuta e sequestrata dalla forestale nel marzo del 2007. Per gli avvocati di parte civile è necessaria da parte dello Stato un'accelerazione dei tempi della giustizia per dare una risposta che tenga conto, ha commentato l'avvocato del WWF Tommaso Navarra, della civiltà dei tempi di oggi.